Quindi iniziamo con il question time, oggetto numero 12 risponde l'assessore Coletto, interroga la consigliera Porzi, do la parola alla consigliera Porzi. Il tema di questa interrogazione è relativo alle presunte inadempienze riguardo agli screening del tumore al seno, al colon retto, della cervice uterina e quindi gli intendimenti dell'aggiunta rispetto a questa tematica. Un programma di screening è un processo molto complesso che agisce su una popolazione asintomatica, sottoponendola periodicamente a controllo con l'obiettivo di individuare una malattia prima che si manifesti attraverso sintomi. Lo screening, pertanto, in quanto un programma di intervento su popolazione, non solo rientra nella mission delle aziende sanitarie, ma deve garantire ai cittadini un approccio quanto più possibile uniforme e qualitativamente appropriato. In Umbria sono attivi tutti i programmi di screening per la prevenzione dei tumori indicati come efficaci nel panorama scientifico nazionale ed europeo, ovvero gli screening per la prevenzione del carcinoma della mammella nelle donne, del carcinoma della cervice uterina nelle donne e del carcinoma del colon retto per le donne e gli uomini. Il percorso di screening per giungere a una diagnosi definitiva è completamente gratuito. Come dimostrano i dati nazionali dell'Osservatorio Nazionale Screening, gli screening in Umbria hanno raggiunto risultati in linea con gli standard nazionali, garantendo ai cittadini coinvolti un percorso di qualità in tutte le sue fasi. Considerata la DGR numero 366 del 2013, che definisce il nuovo modello organizzativo per questi screening oncologici, prevedevamo appunto lo screening per la prevenzione del tumore alla mammella, che coinvolge tutte le donne in età compresa tra i 50 e i 69 anni, che sono invitate a sottoporsi alla mammografia ogni due anni. Dal 2014 sono invitati a effettuare una mammografia ogni due anni anche le donne tra i 70 e i 74 anni residenti in Umbria, proprio in linea con quanto evidenziato dalle raccomandazioni scientifiche e dai gruppi di lavoro nazionali. Lo screening per la prevenzione del tumore della cervice uterina coinvolge tutte le donne in età compresa tra i 25 e i 64 anni e sono invitate ad eseguire il test nella nostra regione, questo è avvenuto a partire dal 2009, anche nelle donne comprese tra i 18 e i 24 anni. Il programma di screening per la prevenzione dei tumori del colon retto è stato avviato in Umbria nel 2006. Le persone tra i 50 e i 74 anni sono invitate ogni due anni a sottoporsi al test per la ricerca del sangue occulto nelle feci. Le aziende ASL dell'Umbria inviano alle persone in questa fascia di età un kit da poter svolgere tranquillamente a domicilio, dove sono contenute anche le istruzioni da eseguire. Evidenziato che la regione Umbria ha disposto proprio il 25 marzo 2020 e fino al 31 luglio una riorganizzazione delle attività di questi screening oncologici, evidenziato anche la proroga del Governo dello Stato di emergenza che nel testo trovate il 15 ottobre, in quanto l'interrogazione è piuttosto vecchia, non è sufficiente e non giustifica certamente questo parametro temporale il reiterarsi della sospensione dei servizi essenziali. Per lo screening colon rettale risultano sospesi gli inviti, vista anche l'interruzione temporanea dal 12 marzo scorso del servizio di spedizione dei kit. Per lo screening mammografico risultano sospesi gli inviti per le donne che dovevano essere invitate nei mesi di maggio, giugno e luglio e per le donne che dovevano essere invitate per la prima volta, cioè le donne che compivano il cinquantesimo anno di età. E proprio di ieri il servizio sul nostro telegiornale regionale, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, del primario di uno dei nostri più importanti ospedali, il quale appunto ravvisava questo ritardo e questa volontà di recuperare il tempo, diciamo così, e le prestazioni perdute. Per lo screening cervicale sono sospesi gli inviti. Ecco, in alcune altre regioni, penso alla regione Lazio e alla regione Emilia-Romagna, i percorsi di screening sono stati attivi e le aziende si sono impegnate nella rimodulazione delle agende. Sono state illustrate le modalità con cui garantire rispetto dei criteri di sicurezza introdotti dai vari DPCM e questa è la dimostrazione che se c'è la volontà del legislatore regionale, i servizi di screening possono essere garantiti anche in una fase delicata come questa che stiamo ancora vivendo purtroppo. La sostanziale perdurante inattività anche dei servizi CUP, quindi l'impossibilità da parte dei cittadini di ottenere prenotazioni per visite ambulatoriali o per esami diagnostici, sta aumentando il rischio di ammalarsi e di non poter effettuare le indagini preventive fondamentali per alcuni tipi di tumore. Questo ingiustificabile e inaccettabile disservizio, oltre a causare enormi disagi ai cittadini, sta ampliando le differenze di accessibilità alle cure e alla prevenzione tra le varie fasce sociali della popolazione. Si rischia sempre di più di generare cittadini di serie A che si possono permettere l'accesso ai servizi privati a pagamento e cittadini di serie B che, non potendosi permettere la sanità privata, sono costretti a volte a rinunciare alle cure e alla prevenzione. Questa disuguaglianza per la sanità Umbra, concepita come universalistica, pubblica e gratuita, è semplicemente inaccettabile e da contrastare con tutte le nostre forze e risorse. Quindi la mia interrogazione è per sapere come la Giunta regionale intende ripristinare questi screening antitumorali previsti dalle normativi regionali e garantiti in altre regioni, nonostante l'emergenza Covid, quale programmazione ha adottato per recuperare i mesi di inattività e se intende adottare un piano straordinario di assunzioni per potenziare le dotazioni organiche di medici e personale infermeristico delle strutture interessate agli screening. Grazie. Grazie, consigliere Porzi. Ricordo a tutti i consiglieri di cercare di stare nei tre minuti per esigenze anche di registrazione del question time. Do la parola all'assessore Coletto per la risposta. Grazie, Presidente. Con la DGR 374 del 2020, linea di indirizzo per le attività sanitarie nella fase 2, e la DGR 467, sempre del 2020, linea di indirizzo per le attività sanitarie della fase 3, la Giunta regionale ha dato disposizione riguardo alla ripresa delle attività sanitarie, tra le quali anche gli screening oncologici, che essendo di livello essenziale di assistenza, sono stati considerati a pieno titolo, tra le attività da riprendere tempestivamente. Le due delibere, per quanto riguarda la ripresa delle attività e screening, citano che la ripartenza dei programmi dovrà innanzitutto tenere conto dell'esigenza di operare in completa sicurezza, sia per gli operatori che per gli utenti. Attraverso le misure di distanziamento e la messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale, ma anche garantire il recupero di tutti gli invii relativi alle programmazioni di marzo e aprile, progettando completamente le sedute, sia per quanto riguarda il numero delle persone da invitare, e il tempo di ogni prestazione, nonché la durata delle sedute stesse. Le due aziende dovranno attenersi alle indicazioni di seguito esposte, che verranno aggiornate in funzione dell'andamento epidemiologico e in linea con le raccomandazioni date dall'Osservatorio Nazionale Screening e delle regioni e delle province autonome. Le aziende sanitarie devono provvedere ad effettuare l'invito per ciascuno dei tre screening oncologici, tenendo conto delle necessità di garantire il distanziamento fisico, il rispetto dei tempi, delle modalità e le procedure di sanificazione, la messa a disposizione di DPI per il personale sanitario e per gli utenti, seguendo le disposizioni ministeriali e dell'Istituto Superiore di Sanità. L'offerta deve essere rimodurata tenendo conto del livello di rischio per ciascuna fascia di età, dando priorità alle persone che hanno ricevuto la lettera d'invito nel periodo marzo-aprile 2020, ma il cui esame è stato sospeso causa l'emergenza Covid e che comunque non siano state presentate immediatamente prima del lockdown. Dovranno essere contattate e reinvitate tutte le persone chiamate ad approfondimento di ciascuno dei tre screening, colposcopia ed ecografia e biopsia mammaria, dopo la verifica dell'eventuale mancata adesione e di un eventuale invito di marzo e aprile per il secondo livello. Le sedute dovranno essere programmate escludendo qualsiasi forma di overbooking, attribuendo un passo identico a ciascuna donna, sia nel caso dello screening mammografico che nel caso dello screening cervicale. Le donne di ciascuna seduta dovranno essere contattate preventivamente per l'effettuazione del triage e la verifica dell'effettiva disponibilità a venire presso il centro di senologia o presso uno dei consultori delle singole aziende. Si dovrà, con cadenza almeno quindicinale, verificare l'adesione per rimodulare, se necessario, gli inviti. Prima del riavvio delle sedute di screening dovranno essere individuate e aggiornate le sedi dove vengono effettuate le prestazioni di secondo livello in ragione del riconlocamento di alcune attività in ospedale covid-free. Successivamente, con DGR 711, è stato adottato in documento recante piano operativo per il recupero delle prestazioni sospese o ridotte in periodo di lockdown e contestualmente è stato dato mandato ai commissari straordinari delle aziende sanitarie regionali di adottare i provvedimenti e le azioni utili a dare attuazione a quanto contemplato nel documento. Nel particolare degli screening è stata data indicazione affinché le chiamate di screening sospese e le prestazioni di secondo livello sospese devono essere recuperate progressivamente fino ad allineare i tempi di chiamata. Pertanto, sulla base di quanto sopra citato, le attività relative ai screening oncologici previsti dalle normative regionali e garantiti in altre regioni nonostante i covid-19 sono state ripristinate e garantite anche nella nostra regione a partire dal mese di giugno 2020 seguendo i criteri individuati dalle delibere citate sopra. È stato adottato da ciascuna delle aziende sanitarie un piano di recupero che prevede il recupero degli inviti sospesi nel periodo di lockdown entro il 31 dicembre 2020 attraverso la ripartizione di tale quota di inviti sospesi nei quattro mesi da settembre a dicembre come attività aggiuntiva e a quelle chiamate a scadenza naturale. Il piano di recupero è attuato seguendo le indicazioni delle delibere 374 e 467 e la 711 sempre del 2020 in linea con le raccomandazioni date dall'Osservatorio Nazionale Screening alle regioni e alle province autonome. Grazie. Grazie Assessore, do la parola al Consigliere Porzi per la replica. Sarò molto breve perché ho perso un po' di tempo nell'illustrazione solo per dire che non sono affatto soddisfatta di questa risposta perché le raccomandazioni e gli auspici che l'Assessore ci ha illustrato in una larga parte della sua risposta non dicono niente di fatto su quanto il piano di recupero abbia prodotto in termini di prestazioni erogate e siccome i numeri sono anche sostanza mi sarei aspettato almeno di capire quante prestazioni in questo lasso di tempo dalle delibere della Giunta regionale ad oggi sono state erogate per colmare questo gap sappiamo che a livello nazionale ce lo dice Sileri ci sono 20 milioni di prestazioni diagnostiche da recuperare in tutta Italia diversamente ripartita tra le regioni ecco mi aspettavo e mi aspetto per il futuro che quando si compie una interrogazione quando si fa un'interrogazione non lo si fa per mettere in difficoltà la Giunta e l'Esecutivo in una situazione di grande difficoltà come quella che tutti comprendiamo ma per avere delle risposte che possono dare anche rassicurazioni alla nostra popolazione darci un numero sul quante prestazioni nei diversi screening che sono tre sono state recuperate in questo lasso di tempo visto che l'interrogazione risale ad agosto credo che non sarebbe stato difficile grazie grazie consigliere procedo con l'oggetto numero 13 l'interrogazione su linee di indirizzo regionale in materia di trattamento sanitario obbligatorio TSO accertamento sanitario obbligatorio in salute mentale ASO interrogante il consigliere Bori do la parola al consigliere Bori per illustrazione grazie presidente il tema del trattamento sanitario obbligatorio e degli accertamenti sanitari obbligatori è un tema che riguarda i pazienti gli operatori sanitari ma anche le polizie locali ad oggi abbiamo una delibera del 15 gennaio 2020 in cui la Giunta regionale che l'ha adottata stabilisce le linee di indirizzo regionali all'interno sono riportate alcune informazioni che vanno verificate se corrispondano al vero infatti all'interno si si sostiene che queste linee di indirizzo siano state concordate con le polizie locali in quanto titolari della procedura di esecuzione dei TSO e degli ASO soltanto che la dottoressa Caponi comandante del corpo della polizia municipale di Perugia e presidente del comitato per la polizia locali dell'Umbria ribadisce nella comunicazione di servizio successiva a queste linee guida di febbraio ribadisce che non esiste alcun protocollo di intesa né atti di altra natura che disciplino l'esecuzione degli accertamenti sanitari obbligatori e dei trattamenti sanitari obbligatori solamente che la giunta regionale sostiene nella propria delibera di aver addirittura concordato un tavolo su questo tema e di aver coinvolto direttamente le polizie ora delle due l'una una delle due cose non corrisponde al vero la nostra preoccupazione non è sul tema degli errori che si susseguono da parte dell'assessorato ma è su come soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria si sia proceduto a effettuare i TSO e gli ASO che come sanno tutti gli amministratori sono procedure complesse e molto molto delicate quindi le carenze logistico organizzative che lamentano sia gli operatori sanitari che la polizia locale che possiamo sintetizzare con l'assenza di una previsione stabile del personale medico a bordo del mezzo di soccorso che interviene per i TSO e per gli ASO che rappresenta un rischio effettivo sia per la saluta del paziente che per gli operatori stessi qualora si dovesse procedere a un TSO la mancata individuazione di appositi locali in cui ricevere il paziente trasportato al pronto soccorso rappresenta un altro rischio reale per entrambi sia per il paziente che per gli operatori e purtroppo spesso avvengono reazioni forti da parte del paziente il mancato allineamento dei tempi tra il triage approntato all'inizio dell'intervento e nel corso del trasporto e all'arrivo del personale medico nella sede e nel pronto soccorso questi sono solo alcuni degli esempi delle cose che sarebbe utile che fossero concordate tra operatori sanitari giunta regionale e polizia locale quindi l'interrogazione chiede di sapere se la regione Umbria intenda rendere pubblici gli esiti del lavoro prodotto da questi tavoli che dichiara di aver effettuato ma di cui le polizie locali non hanno rilevato traccia quindi sia dei tavoli che del gruppo di lavoro all'interno dell'assessorato perché questi lavori non sono mai stati resi pubblici e si chiede anche se corrisponda al vero quello che è riportato nelle linee guida e che viene smentito purtroppo dai fatti grazie grazie consigliere Bori do la parola all'assessore Coletto per la risposta grazie presidente il documento parte integrale e sostanziale della DGR numero 6 15 gennaio 2020 partendo dalla normativa vigente e dal documento della conferenza stato-regioni raccomandazioni in merito alle applicazioni di ASO e TSO per la malattia mentale fatto proprio dalla giunta regionale con proprio atto a 917 del giugno 2009 è frutto dell'elaborazione di una serie di confronti fra le diverse figure coinvolte primo fra tutti la sintesi della sessione tematica su urgenza e emergenza attivata in occasione della conferenza regionale della salute mentale dell'8 maggio 2015 una sessione ampiamente partecipata non solo dagli operatori dei servizi sanitari ma anche dalle polizie municipali dalle forze dell'ordine e dalle associazioni familiari e coordinata dal professor Roberto Quartesan e dalla dottoressa Maria Patrizia Lorenzetti sono stati inoltre raccolti i protocolli già attivati nelle diverse realtà territoriali della regione contenenti indicazioni per l'esecuzione del TSO ed ASO ad esempio nei distretti Assissiano Media Valle del Tevere Trasimeno nell'Alta Valle del Tevere e nella AS2 ed anche i protocolli già in uso in altre realtà regionali già nel 2015 nel periodo immediatamente successivo alla conferenza regionale è stato attivato un gruppo di lavoro che ha organizzato la propria attività sia in una serie di incontri svoltasi in sede regionale sia attraverso gli scambi delle bozze elaborati per via informatica in questo percorso in questo percorso il servizio competente della direzione regionale salute e welfare ha coinvolto inizialmente le aziende sanitarie locali con tutti i direttori responsabili successivamente sono stati invitati a fornire il loro contributo il direttore dell'unità operativa complessa del pronto soccorso l'autor Francesco Borgognoni e le aziende ospedaliere regionali nelle figure dei direttori generali e dei direttori sanitari questi ultimi nello specifico sono stati interessati affinché venissero individuati all'interno dei pronto soccorsi degli spazi dedicati tale documento in più è stato partecipato mediante consegna ai componenti del comitato per la polizia locale dell'Umbria attivato presso l'attuale direzione regionale risorse programmazione cultura e turismo ai fini di una condivisione delle procedure in quanto titolari della procedura di esecuzione del TSO il documento così prodisposto è stato approvato alla giunta regionale nel mese di gennaio dell'anno in corso con l'intento di avviare una fase applicati di avviare una fase per garantire una diffusa conoscenza delle raccomandazioni in esso contenute tale fase prevede un percorso divulgativo e partecipativo attraverso l'organizzazione di un seminario e di un percorso di formazione interprofessionale per la condivisione delle competenze necessarie a seguito dell'approvazione delle linee guida alcuni comuni hanno ritenuto di proporre osservazioni e la regione umbria si è impegnata a discutere della cosa anche con l'ausilio della prefettura considerato che spesso le esigenze sanitarie non coincidono perfettamente con quelle delle polizie locali a tale proposito è stato convocato per il 12 ottobre il comitato della polizia locale recentemente nominato del consiglio regionale al fine di affinare ulteriormente le problematiche connesse all'esecuzione del TSO considerata l'emergenza sanitaria venutasi a creare in questi mesi tale percorso ha subito un evidente arresto ma si è e si sta lavorando per riprendere le fila con la massima collaborazione tra istituzioni grazie grazie Assessore do la parola al consigliere Bori per la replica sì guardi Presidente Assessore a me stupisce che non sia stata data una risposta alla domanda cioè se questo protocollo è stato concordato o meno con le polizie locali le polizie locali non ne dubito dicono di no quindi prendiamo atto che non essendoci una risposta questa è la risposta positivo invece penso che sia il fatto che anche questa interrogazione avrà contribuito a portare il tema all'interno dell'osservatorio per la polizia locale che abbiamo attivato finalmente e chiediamo che si parli seriamente della questione perché i trattamenti sanitari obbligatori gli accertamenti sanitari obbligatori sono purtroppo delle dinamiche complesse sia dal punto di vista degli operatori sanitari che dei pazienti ma anche di chi lo deve seguire cioè gli operatori di polizia per cui riteniamo che la partecipazione sia un tema centrale ci auguriamo che ci siano novità positive dall'incontro del 12 ottobre purtroppo finora non ce ne sono state grazie consigliere Bori procediamo con l'oggetto numero 14 interrogazione sull'ampliamento di malattie infettive conseguente trasferimento di oncometologia ad ospedale di Terni ed interruzione dell'ampliamento di oncologia gravi disagi per i malati più fragili interroga il consigliere paparelli risponde l'assessore coletto do la parola al consigliere paparelli grazie presidente ma premetto che siamo tornando purtroppo con dei dati riferiti alla pandemia covid importanti nella nostra regione e siamo ancora in assenza di un piano sanitario di un'organizzazione adeguata di un piano pandemico perché anche quello famoso del 2008 non è stato mai aggiornato e stiamo ripiombando nella più completa disorganizzazione in alcuni casi in particolare all'ospitale di Terni sono iniziati quanto si è preso dalla stampa lavori di ristrutturazione dei locali che ospitavano una sezione di area america al piano terra del corpo centrale lato sud-ovest il trasferimento sarebbe stato effettuato della struttura per liberare spazi ai fini di ampliamento della clinica di malattie infettive che così insieme a quanto è stato avete deliberato in quest'Aula conferma il fatto che l'abnormo aumento dei posti di terapia indeziva l'aumento dei posti di malattia infettiva è conseguente al fatto che evidentemente si vuole fare di quell'ospedale il presidio più importante per la gestione del covid e della pandemia con tutto quello che concerne per quello che riguarda i disagi per tutte le altre tutte le altre patologie le lunghissime liste d'attesa che ancora esistono soprattutto nelle aree chirurgiche i lavori abbiamo appreso cominceranno solo che dopo questi spazi occupati a lunga ematologia saranno stati liberati eccetera e tutto questo però c'è una conseguenza a mio avviso molto grave cioè quello di rallentare e addirittura adesso vedremo anche cambiare l'ampliamento necessario che da anni era stato progettato faticosamente conquistato necessario per l'ampliamento un ampliamento adeguato del reparto di oncologia e degli spazi destinati all'attesa per i pazienti particolarmente fragili fragili che necessitano di un'accoglienza adeguata questa esperienza la recente esperienza vissuta nella gestione della fase più critica dell'emergenza covid è evidenziato che quella città quell'ospedale aveva bisogno di altro noi facemmo la proposta di utilizzare l'area dell'ex milizia siete stati sordi a qualsiasi nostra proposta il problema adesso è non tornare a penalizzare la regolare attività chirurgica assistenziale a favore dei pazienti anche quelli con gravi patologie e soprattutto fare in modo che si avvii al più presto in modo improcrastinabile si avvii i lavori di ampliamento del reparto di oncologia progettati fin dal 2015 assegnati già appaltati ad una detta sulla quale sono stati spesi 100.000 euro per il progetto c'è una donazione della fondazione Garit di 800.000 euro è stato fatto l'appalto di un milione e prendiamo dalla stampa adesso che tutto questo si ferma perché la direzione generale avrebbe in mente di rivalutare se non ridimensionare diciamo questo progetto cui i malati particolarmente fragili aspettano da anni quindi vorremmo sapere se questo corrisponde al vero quali sono le tempistiche per l'avvio e la conclusione dell'ampliamento di oncologia e quali sono le tempistiche che voi prevedete per il completamento del reparto di malattie infettive grazie consigliere do la parola all'assessore Coletto per la risposta grazie presidente l'articolo 2 DL 34 2020 decreto rilancio prevede il rafforzamento delle strutture del servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero tramite appositi piani di riorganizzazione predisposti da regioni approvate dal ministero della salute con nota 15 028 del 22 luglio 2020 il ministero della salute direzione generale della programmazione sanitaria inviato da regioni umbria il decreto direttoriale registrato presso la corte dei conti di approvazione del piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l'emergenza covid-19 adottato con delibera della giunta regionale 483 del 2020 il riferimento all'azienda ospedaliera di Terni su detto piano prevede lavori di ristrutturazioni edili e adeguamento impiantistico finalizzati all'ampiamento del reparto di malattie infettive alla ristrutturazione dell'adiacente reparto di oncomatologia al fine di ricavare quattro degenze singole di terapia intensiva e numero uno open space di terapia intensiva con quattro posti retto totale otto posti retto oltre ai locali a servizio del reparto superficie totale dell'intervento metri quadri 760 per quanto riguarda la tempistica i tempi di attuazione dell'intervento riguardanti reparti malattie infettive e oncomatologia si fa riferimento alla procedura individuata dal commissario straordinario per emergenza sanitaria che in sintesi prevedono predisposizione di accordi quadro stipulati dal commissario entro il primo novembre per appalti di lavori e servizi tecnici decentramento delle fasi contrattuali e relative e realizzative finali rimesse alle aziende del servizio sanitario nazionale quali soggetti attuatori e stazioni appaltanti di secondo livello per l'emissione degli ordini di acquisto delle prestazioni oggetto degli accordi quadro per quanto riguarda la riprogettazione presso l'ospedale di Terni in data 2 settembre 2020 sono iniziati i lavori dell'ex area medica posta al piano terra alla sud ovest per consentire il trasferimento del reparto di oncomatologia ultimati il 1 ottobre del 2020 intervento consentito di realizzare un cup oncoematologico la sala prelievi ed ambulatorio 4 ambulatori studi medici infermeria archivio stanza adegenza con 2 posti retto numero 4 stanze dedicate alla terapia su poltrona l'azienda ospedaliere di Terni riferisce che intende rivedere il progetto della sala di attesa del reparto oncomatologia nel frattempo ha provveduto oncologia chiedo scusa nel frattempo ha provveduto lavori iniziati il 18 settembre e terminati il 1 ottobre alla realizzazione di un nuovo spazio a dedicare la sala di attesa del reparto di oncologia mediante il trasferimento dell'ufficio del Tribunale dei diritti del malato del centralino della stanza degli urologi posti lungo il corridoio del piano terra del corpo centrale verso il reparto di oncologia la demolizione di tutte le tramezzature al fine di ricavare un unico ambiente di circa 60 metri quadri dotato di tutti gli impianti necessari e di un monitor elimina code in appendice a quello già esistente nell'attuale sala d'attesa del reparto di oncologia peraltro informiamo anche che abbiamo provveduto ad attivare una risonanza magnetica che era ferma è inutilizzata da circa 5 anni e una seconda ferma da 2 anni in pochissimo tempo le abbiamo messe nella disponibilità prima che diventino obsolete della popolazione umbra peraltro sottolineo un altro aspetto si citava prima il piano pandemico ebbene il governo ha provveduto ad aggiornare il suo piano pandemico nella scorsa seduta della conferenza Stato-Regioni quindi anche noi accaduta naturalmente e prendendo le linee direttive da parte dettate dal governo provvederemo ad aggiornare anche il nostro considerazione sul piano sociosanitario dal 2011 l'ultimo piano sociosanitario io credo che in 9 anni c'era tutto il tempo per aggiornarlo senza provarne uno in via preventiva e scaricare poi le colpe su questa amministrazione grazie grazie assessore coletto consigliere paparelli aspetta che gli dia la parola prego che l'insoddisfazione quelle volte sfiorano il ridicolo diciamo delle affermazioni che da una personalità che ha svolto incarichi di governo nazionale cioè non ci si attende non ci si attende perché ci racconta sempre quello che fanno gli altri quello che fa il direttore ma noi non sappiamo qual è l'opinione della giunta rispetto a un progetto che prevedeva un ampliamento di 250 metri quadrati del reparto di oncologia rispetto a un ridimensionamento di una stanzetta di 60 metri quadrati realizzata adesso e che fine fanno in termini anche di responsabilità contabile i 100 mila euro spesi per il progetto che fine fa la gara d'appalto già avviata e tutto questo sulle spalle di persone che hanno una certa fragilità quindi per cortesia piano preadottato sanitario sociale è un piano che ha visto 12 tavoli tecnici e due anni di partecipazione quindi per quello che mi riguarda è passato un anno voi state ancora alle polemicucce di quello che doveva essere fatto non è stato fatto visto che avete vinto le elezioni dimostrate di essere più capaci al momento non lo state dimostrando caro Assessore no lo state